Calcio, hip hop e basket, ma anche musica, teatro e incontri finalizzati a migliorare il metodo di studio o la gestione dell'ansia. Sono solo alcune delle attività che i ragazzi tra i 14 e i 34 anni della Piana di Lucca potranno svolgere gratuitamente a Porcari, grazie al bando Spazi Civici di Comunità. Un gruppo di associazioni del territorio si è aggiudicato infatti il finanziamento da 100.000 euro del Ministero per lo Sport e da qualche settimana ha avviato il progetto presso la sede di Via Romana Est 12 a Porcari. Un progetto che vede momenti di aggregazione tra attività sportive ed extrasportive che vede capofila Academy come Società Sportiva del Territorio ed altri soggetti partner. Il comune di Porcari chiaramente vede partner l'Agenzia Suecoforma per la parte della formazione e la cooperativa Iris che metterà a disposizione tutta una serie di figure professionali quali lo psicologo. Siamo particolarmente orgogliosi tra l'altro perché siamo tra i sei comuni che sono stati beneficiari di questo finanziamento a livello toscano. Le attività sono tenute da giovani educatori opportunamente formati e culmineranno nella festa dei giovani, dello sport e dei talenti.